La conclusione di quanto ci si è detto stamattina, che è assolutamente interessante sia l'idea della Provoca per Cefalù, che poi, dato che la nostra mente nazionale lavora per confronti, sentendo Pino ai Cinquegrani, l'immagine che mi è venuta è che se noi andiamo su tutti i siti che parlano di turismo, quando si parla di località turistiche o di alberghi o di strutture, nella zona di Campo Felice, si parla vicino a Cefalù. E quando invece, purtroppo, devo sentire, devo osservare, si parla di Sant'Ambrogio che è Cefalù, nel senso del comune, si deve parlare di questo gran distingo e con le amare parole di Pino Cinquegrani mi fanno rispettere. A questo punto non so se essere di Sant'Ambrogio è più una fortuna che una sfortuna. Se l'animo è lo spirito battagliere, la voglia di condividere, la voglia di fare qualche cosa per la società, io credo che siano fortunati gli abitanti di Sant'Ambrogio a essere isolati in questo senso, perché credo che la crescita civile che possono promuovere le associazioni di Sant'Ambrogio sono nella giusta direzione, è quello che dovremmo auspicare per noi di Cefalù, di mantenere, di avere un forte spirito non solo associativo ma di senso di appartenza nei confronti della città. Ripeto, gran parte della settimana, per tutta la settimana, sto in altre zone che oggi stanno cominciando a lanciarsi turisticamente, parlo della provincia di Trapani, Marsala città del vino, Trapani, città della vela, l'aeroporto di Birgi e stanno cercando veramente di sfruttare in tutti i modi il loro territorio e quello che loro possono dare. Credo che ritornare a uno spirito di appartenenza potrebbero essere anche belle parole, forse retoriche, ma ritrovare un senso di appartenenza, una forte identità per la nostra città sia importante. E lo dico cittadino siciliano, cittadino siciliano e italiano, più che c'è Faludese, cercando di accantonare ciò che ci frena e di tenere buono quelli che sono i nostri valori. Quello che è opportuno è forse andare a imparare dai concittadini di Sant'Ambrogio ad avere un po' di sangue nelle vene, quello che manca a questo paese, che si bea troppo della propria bellezza ed è fine a se stessa e poco produce. Non siamo riusciti in tanti anni a rendere Isola Pedonale un centro storico che potrebbe essere bellissimo e valorizzato, quando osservo che a Trapani hanno uno straordinario centro storico con bellissimi palazzi e non passa una macchina che sia una. Ci sono le strisce blu e i cittadini, pur facendo qualche lamentela, si adeguano a quello che è prescritto dal regolamento comunale o a quello che viene dato. Qui bisogna ritrovare un senso di appartenenza, uscire dal proprio particolarismo e cominciare a puntare a qualcosa di più importante, perché la risorsa più importante che abbiamo è quello che dovrebbe essere la cultura, i beni monumentali, le spiagge e il mare, ma dobbiamo cominciare a offrire qualcosa che dia un buon motivo ai turisti per ritornare, altrimenti si rischia di rimanere turismo a morbi e fuori. Senza dubbio, raccogliamo la tua sollecitazione, la parola chiave è rafforzare il senso di appartenenza e in questo esempio i nostri concittadini di Sant'Ambrogio ci possono, perché c'è quello che Sant'Ambrogio devono essere un tutt'uno con le proprie specificità, possono aiutarci. L'aspetto che dicevi tu è importante, io quando vado fuori dalla città non solo vedo anche altre esperienze, sarebbe importante anche avere consigli e interagire, ma si esce fuori da un fenomeno che è quello della presbiopia alle volte, quando si è immersi in un contesto spesso si perde questa capacità di guardare l'insieme, per cui noi spesso perdiamo anche la consapevolezza di apprezzare il luogo in cui viviamo. C'era un grande scrittore della letteratura italiano Blancati che dice io ho imparato ad amare la mia terra, la Sicilia, quando mi sono trasferito a Roma, perché avevo una visione d'insieme, noi dovremmo imparare forse di più ad amare la nostra città, ad afforzare il senso di appartenenza e credo che quello che tutti voi fate come associazione qui a Cefalù è importante per questo, quindi grazie per la testimonianza che ci avete dato, buona domenica a tutti e arrivederci a domenica prossima.